se si rivede non posso competere con la tua forza dovrò sfruttarla a mio favore mi chiamo Alexandria Muno visto che non è la prima volta che ci vediamo andiamo subito al sudo ovviamente devi rispondere alle domande con totale sincerità innanzitutto, identificati per favore capisco in effetti sembri una persona sola non è vero dunque dove posso trovare Robert Forch? ah, dopo quello che gli ho fatto patire curioso che non sia scappato o non si sia nascosto quello sciocco tuttavia questo semplifica un po' le cose e significa che dovrai portarmi l'uomo molto bene aiutami a ottenere ciò che desidero e avrai la tua esperienza prima raccoglieri delle campane questo è un fiore speciale dovrai servirlo al signor Fortune nel suo te dopo averlo bevuto dovrebbe seguire ogni tuo urtine dopodiché dovrai portarlo al terreno abbandonato vicino al Tempio Dead tutto chiaro? bene allora ti lascio fare come posso aiutarti oggi? oh, è molto gentile da parte tua anche se non sono sicuro di poterlo accettare sono già parecchio in debito con te per contro mi dispiacerebbe rifiutare la tua offerta generosa oh, cosa dovrei fare? giusto? se insisti in vero il tè è una cosa meravigliosa non ha confini e può essere gustato sia dai britannici che dai giapponesi naturalmente non disdegno neanche una tazza di sake ma in tanti si rovinano la vita con quello, non credi? comunque non trovi che questo tè abbia uno strano sapore? te ne vai? è ora che me ne vada anch'io allora andiamo a cercare un meraviglioso giardino fiorito? non sono venuto fino in giappone solo per essere confinato in casa da canaglie espulsioniste il signor fortune, presto salviamolo se solo avessi sempre a fianco un guerriero come te oh, mi sento così bene deve essere il tè che tipo di foglie erano? restituitecelo, niente gesti avventati non no Grazie al cielo! Oh, petali di fiori! Il giardino fiorito deve essere vicino! Dunque, le voci erano vere. Avevo che lavoravano in quella trattata. Un fiore! Un morto floreale a forma di essere umano! Aiuto! Un morto! 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 Non so con che bugie ti abbia riempito la testa, ma consegno a tutti. Robert, aspetta! Molto bene, proprio un ottimo lavoro. Ho la sensazione che sia l'inizio di un bellissimo rapporto. È ciò che volevo sentire. Al prossimo incontro. Al prossimo incontro. Grazie.